Sicuramente troveremo una squadra che ha voglia di fare punti, che ha voglia di riscattare un risultato pesante anche se maturato negli ultimi 15 minuti. Non tranga in iganno il risultato rotondo perché nella prima frazione si erano equivalse anche le occasioni da gol, perché anche la Carrarese aveva avuto 3-4 palloni importanti per poter addirittura andare in vantaggio. Così non è avvenuto, credo che di assenze ne possano avere 3-4, secondo me da quello che leggo dai giornali potrebbero recuperare 2-3 giocatori, ovvero Rampi, Del Nero potrebbero recuperare anche Benedini, avere di assenze solamente Massoni, Floriano, non so dell'amico che è uscito anzitempo nell'ultima gara e quindi vedremo un pochettino quello che sarà, però a me interessa la squadra nostra, è giusto conoscere le caratteristiche dei nostri avversari, è giusto sapere le loro qualità, i loro pregi, i loro difetti, però poi dopo fondamentalmente siamo chiamati noi a fare una prestazione importante per dare continuità all'ottima prova fornita a Como. Orientativamente ho solo un dubbio, però legato al reparto offensivo, per il resto non sarà tanto lontano dalla squadra che ha giocato a Como. ci sono state delle indicazioni importanti in settimana, si è aggregato al gruppo nella seduta di ieri anche a Cidiacono e quindi se anche oggi risponderà bene almeno potrà essere nella lista dei convocati. Ha un'altra settimana di lavoro sulle gambe Ianga e quindi sarà preso in considerazione eventualmente anche per partire dal primo minuto. Sono contento perché obiettivamente sono contento, era un percorso che si preannunciava tortuoso, complicato per più di un motivo, una squadra completamente nuova da ricostruire una mentalità importante anche all'interno dello spogliatoio con delle difficoltà oggettive anche per quanto riguarda fattori esterni, mi riferisco ovviamente alle problematiche legate ai campi di allenamento. Però in tutto questo la squadra è cresciuta, si è fortificata, non contentissimo contentissimo perché la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada ce l'ho, credo che ce l'abbiano anche i ragazzi, però l'essere lì aggrappati a squadre che alla vigilia nel precampionato tutti accreditavano come le tre che avrebbero fatto un campionato a sé e le altre a giocarsi l'eventuale quarto posto, trovarsi in questa posizione con la possibilità di poter migliorare, di poter andare con continuità a rompere le scatole alle tre favorite e ci dà gli stimoli per cercare di migliorare quello che abbiamo fatto finora e poter arrivare nel miglior modo possibile al rush finale di questa stagione.